E' appena terminato il derby aerobico di Serie B tra la Comarca Bergamo Basket 2014 e la B di Gas Alto Sedino. Siamo col presidente Massimo Lenz. Allora presidente, vincere un derby? Sensazioni? Sensazioni sempre molto entusiasmanti. Non mi aspettavo francamente una vittoria così netta. Siamo stati molto bravi a tenere la partita sempre in mano. Ultimamente ci vanno bene le cose. Peccato Milano settimana scorsa perché potevamo veramente cambiare la nostra classifica. La sensazione è proprio quella di un gruppo e di una squadra in costante crescita. Sì, direi che a Legalli sta facendo un buon lavoro. Non ci dobbiamo però entusiasmare troppo, non dobbiamo sederci sugli allori. Dobbiamo continuare a lavorare e rimanere concentrati anche perché il nostro obiettivo è sicuramente centrare i playoff. Il calendario offre settimana prossima un altro incontro casalingo, un altro incontro in cui è evitato sbagliare. Trieste è ancora a zero punti ma sicuramente una squadra non facile da affrontare. Vorrei che come per questa partita i nostri giocatori interpretassero la partita di Trieste come una partita comunque a rischio e difficile. Perché sono le sorprese che ci hanno tradito nelle prime due partite in casa. Un commento finale sulla nuova sciarpetta Bergamo Basque 2014? È una sciarpetta popolare come siamo noi nell'animo. Cioè gente che deve entrare in arena e combattere fino all'ultimo minuto. Grazie mille Presidente e complimenti e un bocca al lupo. Grazie.